Questo programma è offerto da Tecnocampus Venerdì 21 giugno, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi a questa quotidiana rassegna stampa come ogni mattina offerta da Tecnocampus Anche oggi come sempre tanti fatti in primo piano tanta la cronaca ma anche la politica e si discute ancora nell'ambito del nostro governo ma cominciamo subito a vedere le notizie che arrivano dai quotidiani nazionali e apriamo direttamente con il Corriere della Sera e vediamo che Salvini minaccia giù le tasse oppure lascio colloquio con il leader leghista che spinge per la riforma fiscale servono 10 miliardi di tagli Conte a Bruxelles, stime della commissione fuori dalla realtà bisogna rivedere le regole e intanto sempre più anziani un paese e due società e la realtà è che comunque l'età di tutti cresce e ovviamente questo determina un aumento delle persone anziane e di contro una riduzione delle nascite che porta comunque a una percentuale istat che riporta a una realtà che comunque non ci aspettiamo ma soprattutto che avanza in maniera differente dalle nostre attese e intanto continuiamo a vedere la politica Toti, Forza Italia farò la rivoluzione mentre vediamo quelle che sono le altre misure per rendere tutto fattibile 5 miliardi per avere la pace e intanto l'esame di maturità e il coraggio che manca nelle scuole questo che viene raccontato da Ernesto Galli della Loggia mentre tanti professori reclamano detestando l'esame di maturità molti dicono che l'esame di Stato come tanti altri esami che terminano un ciclo di studi sono assolutamente inutili però la realtà è che comunque rappresenta una sorta di test per poter andare avanti e fare della propria vita quello che comunque si desidera però ovviamente in maniera differente e intanto vediamo nella parte centrale della pagina una sentenza che sicuramente solleverà tante questioni anche e soprattutto morali niente chemio, la ragazza morì di cancro la madre dice rifarei tutto la ragazza di Padova affetta da una leucemia che praticamente è stata curata ovviamente curata senza chemioterapia e questo ne ha determinato la morte ora dire se i genitori hanno fatto bene dire se i genitori hanno fatto male è una sentenza ovviamente che viene proprio in relazione a questa vicenda i condannati i genitori che non fecero curare Eleonora ancora vediamo quelle che sono le altre vicende soprattutto in relazione all'attenzione USA Iran ha battuto un drone Trump grave errore mentre nella parte bassa della pagina ancora cronaca la strage di Viareggio sette anni per Moretti e ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali vediamo quelle che sono le notizie in primo piano nella giornata di oggi ci spostiamo sul quotidiano La Verità e vediamo in apertura di pagina le sofferenze dei cattolici sul giornale del Papa scrive un prete condannato per molestie su una bimba l'osservatore romano pubblica un commento dell'ex portavoce del vescovo di Fano sorpreso in spiaggia a compiere atti sessuali che gli sono costati quasi due anni e l'ex capo della sala stampa vaticana firma la prefazione al suo libro in barba all'impegno solenne di Bergoglio contro la pedofilia dopo il dossier Viganò e intanto vediamo nella parte centrale della pagina la pagliacciata di sala calzini arcobaleno in onore del gay pride e insomma ognuno esprime la propria volontà e le proprie intenzioni di aderire o meno ai diritti altrui in maniera appropriata o meno a seconda di quella che è la sua volontà e intanto vediamo stare con i barbari la legge leghista sul fine vita mette la chiesa spalle al muro e intanto il governo bussa soldi per negoziare con l'unione europea chiesto un miliardo a cdp conte i nostri conti meglio del previsto Moscovi sì dovete rispettare le regole e intanto si parla ancora della diatriba con l'europa e ovviamente tante sono le conseguenze di questa vicenda ma vediamo ancora in questa prima pagina la consulta stoppa le polemiche il primo decreto sicurezza e costituzionale respinte le regioni nella parte bassa della pagina un libro rimette il dito nella piaga del corriere i rapporti tra il vice direttore Fubini e Soros e ancora vediamo quelle che sono le notizie di questa prima pagina la matematica in panchina Ancelotti primo, Sarri indietro, ultimo Giampaolo e ancora vediamo gli altri fatti raccontati dalle prime pagine delle testate nazionali vediamo adesso il fatto quotidiano strage di Viareggio nella parte alta della pagina l'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti condannato in appello a sette anni il papà di una delle vittime dice più sicurezza solo punendo i manager e questa è comunque un'attenzione che ci auguriamo possa essere fatta ossia maggiori controlli sulle strutture e soprattutto su quella che è la viabilità anche ferroviaria e ancora vediamo nella parte centrale in apertura di pagina i dati della procura i risultati di Greco evasione la guerra giudiziaria paga in tre anni Milano strappa 5,6 miliardi patteggiamenti per fare cassa evitando i processi figurarsi quanto si potrebbe incassare alzando le pene le soglie di impurità di Maio galera per i grandi evasori e intanto dietro lo spartto alla sindaca Caltagirone e Antiraggi corteggia Salvini per salvare il suo gruppo mentre nella parte bassa si parla della dimenticanza morale di Berlinguer e ancora vediamo esclusiva sette mesi da sequestro in Kenya si parla oggi di Silvia Romano rapita perché subì molestie o vide atti di pedofilia e adesso della ragazza ancora non ci sono notizie e intanto scendiamo su questa prima pagina grandi manovre per ridare vitalizia agli onorevoli condannati i ricorsi presentati a collegio d'appello potrebbero essere accolti a salvare gli ultimi ex parlamentari finiti alla sbarra potrebbe essere la legge Severino che dà un tempo ragionevole per riottenere agibilità politica mentre per la missione europea conti in Unione Europea conti migliorati adesso le regole cambino e intanto per i temi di maturità ieri secondo giorno temi di maturità la cittadinanza passa sempre per la storia e ancora vediamo una censura tutta particolare vietato dire a quanto pare animali domestici censura USA a Francesca Marciano infatti l'America è il paese delle libertà ma non troppo come il cinema la tv e le università anche l'editoria è minacciata dalla dittatura del politicamente corretto che spunge dalla pagina tutto ciò che è considerato sconveniente così è capitato a Francesca Marciano scrittrice e sceneggiatrice che sta lavorando a una raccolta di racconti in uscita nel 2020 e a quanto pare che cosa le hanno censurato indubbiamente c'è un incremento della vigilanza in una similitudine in cui mi riferivo al canto dei gabbiani che risuonano come alla chiamata del muezzin mi è stato chiesto di togliere il riferimento proprio al muezzin insomma queste sono le nostre diciture ma soprattutto sono le censure che oggi ancora sembra strano a dirsi ma ci sono e sono sempre più evidenti e soprattutto in crescita e ancora vediamo Libero in apertura aiutino per Conte Bruxelles Bruxelles Silvio da una mano al sedicente premier il capo del governo non trova sponde in Europa la sua lettera non piace il cavaliere in campo per evitare la multa tanto dice questo governo non dura e Calenda ne dice una giusta sia Giorgetti commissario Unione Europea mentre nella parte sinistra della pagina Vittorio Feltri uno su due vade viva la flat tax purché sia pagata attenzione da tutti gli italiani e ovviamente questo è il punto importante della nostra economia tutti pagano le tasse punto di domanda è questo che bisognerebbe verificare e intanto vediamo nella parte centrale della pagina lo stupidario dei pentastellati curato dalla segheria di Battista è nella parte bassa della pagina l'innocente Moretti condannato a sette anni la strage ferroviaria di Viareggio e mentre nella parte destra Gigino ricatta l'autonomia in cambio di soldi al sud la lega fa il movimento 5 stelle disfa ovviamente non si può barattare l'autonomia e soprattutto non si può barattare una separazione dell'Italia per altri fini e ancora vediamo Forza Italia nordisti e suddisti divisi è diventata Forza Italia mentre nella parte bassa della pagina l'apertura del Papa si comincia dall'Amazzonia i preti potranno sposarsi ma sono a una certa età sembra una canzone di qualche tempo fa che adesso ritorna proprio in auge ma sembra proprio in una notizia che viene raccontata da queste prime pagine ancora ci spostiamo e andiamo a vedere le altre prime pagine dei quotidiani nazionali ci spostiamo su Il Tempo è rincarato pure il Magna Magna rivolta alla Pisana il bar della regione Lazio aumenta i prezzi e riduce le porzioni consiglieri collaboratori e dipendenti sul piede di guerra contro la nuova gestione mentre nella parte alta vediamo la neocordinatrice si confessa il tempo ci riprendiamo i moderati e Silvio resta leader Carfagna Forza Italia è tornata dopo la ridistribuzione dei ruoni all'interno di Forza Italia vediamo che oggi si aprono nuovi scenari e intanto nella parte bassa della pagina col caos rifiuti arriva l'invasione degli insetti strade ricoperte dalla mondezza anche davanti alle scuole e sulla capitale planano stormi di falene mentre ci sono ancora indagini sulla memoria dei telefoni la verità di Torvaglianica è nascosta nel cloud e ancora quella ferrovia fantasma che lascia a piedi il pigneto tutto fermo da più di due anni questo è l'allarme che viene lanciato proprio da questo giornale e soprattutto la denuncia che viene fatta sempre da questo giornale intanto passiamo alla Repubblica la furbata da un miliardo il governo infatti si prende il tesoretto di cassa depositi e prestiti per placare l'Unione Europea è l'unico assestamento reale ma Bruxelles vuole altri sei miliardi procedura di infrazione più vicina parla Conte puniti da regole sbagliate la consulta boccia Salvini no superpoteri ai prefetti e intanto vediamo ancora il caso se Lampi chiede di sciogliere Casa Paud e proprio all'interno di queste pagine vediamo che cosa accade mentre per le nomine europee e per gli altri nel Grand Hotel del Potere ancora tutto da discutere e intanto Federica Shock via striscione per Regeni mentre nella parte destra della pagina vediamo una foto piuttosto eloquente e un regalo dall'Istat vediamo delle pale eoliche e intanto una sorpresa l'Italia a quanto pare è verde meno consumi più energie rinnovabili e Renzo Piano l'ecologia a quanto pare dice è anche business e questo appunto forse è uno dei motivi per cui gli italiani tendono a investire sull'energia pulita che rappresenta comunque quell'area di cambiamento che non sempre ci aspettiamo dagli italiani e intanto nella parte bassa della pagina in intervista a Stipex Rem torno già pronte 18 canzoni e ancora vediamo gli altri fatti raccontati sulle testate nazionali vediamo appunto che cosa dice in questa giornata il dubbio conte migliorano i conte in Unione Europea rispettate le regole la Commissione apre la procedura trattiamo ma fuori le cifre infatti rompere con l'Europa strillare contro Parigi e Berlino battere il pugno per farsi rispettare far circolare minacce di imminenti elezioni e poi al rapporto al colle sul Consiglio Europeo un'agenda per gli innovani nel quale l'Italia è sul banco degli imputati far scena muta bisogna partire da qui dal vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini che tacciano alla presenza del capo dello Stato salvo poi scatelarsi notturna di fatto impedendo una conguora risposta alla lettera con la quale Bruxelles annuncia all'Italia una procedura di infrazione per provare a capire non tanto quel che può succedere ma quel che sta accadendo la lettera infine è poi partita destilazione Juncker a poche ore dall'inizio del Consiglio Europeo scritta in italiano come mettere a segno due scortesie con un gesso solo insomma queste sono appunto le notizie in relazione alle comunicazioni troppo spesso sbagliate e intanto la riforma del governo viene raccontata nella parte sinistra della pagina da Enrico Novi se il PM sbaglia viene pulito ecco la svolta sulla giustizia anni di attesa per dare certezza ai tempi delle indagini per proteggere in modo accettabile l'intercettazione dal volantilaggio mediatico per riformare il CSM anni inutili tentativi numerosi eroici ma purtroppo inutili e intanto nella parte centrale della pagina i familiari oggi è un bel giorno stiamo parlando della strage di Viareggio sette anni a Moretti condannati vertici di Trenitalia e RFI e intanto vediamo nell'immagine le 32 sedie vuote presenti proprio in Auna che rappresentano le morti di questa giornata ossia della strage di Viareggio e intanto 5 Stelle di Battista e Casaleggio preparano l'avviso di spratto per Di Maio mentre da Forza Italia il Cavaliere nomina due capi ma prepara le elezioni in autunno e ancora vediamo nella parte bassa della pagina la ricerca contro la SLA non basta mai malati pronti a fare da cavi oggi è la giornata mondiale ovviamente tutti sono disposti o almeno la maggior parte a trovare una via per guarire da questa malattia o comunque per ritardarne quelli che sono gli effetti sempre più devastanti intanto il procuratore di Milano nella bufera social terrone a chi la rivolta dei magistrati del sud contro il nordista greco e infatti il procuratore di Milano Francesco Greco finisce nel mirino dei magistrati del sud ai togati meridionali e non sono affatto piaciute le parole che Greco aveva pronunciato parlando del caso Palamara è un mondo che non ci appartiene che non appartiene soprattutto ai magistrati del nord che vive negli alberghi e nelle ferrovie e retrovie della burocrazia romana ma ancora vediamo gli altri fatti raccontati nelle prime pagine dei quotidiani nazionali andiamo a vedere adesso sulla gazzetta del mezzogiorno quelli che sono i fatti e vediamo nella parte alta palpeggia una tredicenne rischia il linciaggio accade a Bari le monestie a pane e pomodoro intanto per la giustizia e i nomi di altri quattro giudici nell'inchiesta di Lecce trani sagonotti magistrati coinvolti e nella parte alta della pagina Conte promuove i suoi conti ma l'istat avverte pilla a rischio l'Europa le regole non si cambiano fondi comunitari tutto come prima ma la Lega vuole l'autonomia e ancora nella parte destra a Mittal la CIG dal primo luglio e resti l'immunità penale con l'industria non si rispettano patti firmati accordo con l'OMS per controlli a Taranto e ancora vediamo sempre in questa prima pagina ma il nord l'autonomia l'ha già presa però dice questo giornale proprio con i soldi ancora ci spostiamo su altre pagine nazionali questa volta vediamo lo sport e ci affianchiamo al Corriere dello Sport non mi resta che vincere Juve Sarri si presenta in giacca e cravatta ormai Ecos Geek deve presentarsi ogni volta qui per la Champions batterò lo scetticismo parlerò con Ronaldo e gli altri top player io e il Napoli se San Paolo mi fischia sarà per amore Corri razzisti se non cambia idea si fermino le gare e infatti c'è un Maurizio Sarri che parla e poi c'è un Maurizio Sarri che pensa c'è un conflitto vertiginoso di idee che forse si aggrovigliano prima di liberarsi nella loro limpidezza per quei 59 minuti però parlando e pieni di sé di quello che è stato di quello che potrebbe diventare di un uomo separato in due anime intanto De Laurenti sull'attacca urla e bestemmia come si adatterà adesso a questa situazione intanto Ceballos Blitz Milan James Napoli grande club e Italdon ecco la Cina mondiale ottiove alla portata le azzurre possono farce l'Under 21 di Biagio punta su Ken e Chiesa con il Belgio e ancora vediamo un'altra pagina sportiva da tutto sport Pogba chiama Sarri il francese pista caldissima per la Juve che ha presentato il nuovo tecnico aiuterò CR7 a raggiungere altri record e nella parte centrale della pagina Ferrari oggi in Francia è il giorno del giudizio mentre nella parte centrale Conte Bumas Al Siro Inter già 35.000 abbonati e noi adesso lasciamo perdere i numeri ma ci dedichiamo a qualche minuto di pubblicità però tranquilli ritorniamo subito dopo e continuiamo a parlare di fatti a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ben tornati in studio, vi ricordo che oggi è sempre venerdì 21 giugno, siamo sempre a Teleprima in diretta con la rassegna stampa e continuiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani. Questa volta però ci spostiamo sui quotidiani online e andiamo a vedere le notizie che riguardano la regione Campania. E partiamo subito da una notizia di colore. Daniele mandolinista che canta la scampia da bere. Nonostante la giovanità si è già esibito in Russia e in diverse nazioni europee. Infatti a Scampia c'è un ragazzo giovanissimo che sta facendo parlare tutta la scena musicale napoletana, non è un melodico, nemmeno un cantante trap, non usa l'autotune per cantare. Daniele Galasso usa il mandolino, avete capito bene, il mandolino nonostante la giovane età si è già esibito in Russia e in diverse nazioni europee. Rappresenta sicuramente uno dei talenti, una delle eccellenze nostrane in Italia e non solo. Giovane, leve e maestri, la con gli anni riconoscono ormai di comune accordo il talento indiscusso di questo ragazzo Galasso. E insomma si parla anche di una Napoli piena di ricchezze, soprattutto in ambito artistico, musicale e questo fa sicuramente bene. Ma si parla anche di cronaca questa mattina, tanta cronaca e vediamo che a Scampia questa mattina è arrivata la notizia di oltre 2000 dosi di droga nel vanno delle scale e due di arresti. E infatti nascondevano 2250 dosi di droga dietro un mattone nel vanno scale. Due persone arrestate dai carabinieri, si tratta di Amodio Didonato, 52enne già noto alle forze dell'ordine e Gemito Salvatore, ventenne incensurato. Questi due uomini arrestati nella notte dal nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. I militari le hanno sorpresi sul tetto del complesso di edilizia popolare Lotto T.A. mentre rimuovevano un mattone dalla parete del vanno scale, dalla cassaforte installata nello spazio e ricavato dietro al mattone, Gemito e Didonato, prelevavano sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. I militari bloccati due soggetti hanno rinvenuto e sequestrato 1851 dosi di cocaina del peso complessivo di 1,712 grammi e 399 dosi di crack per un peso totale di 88 grammi. Gli arrestati sono stati tradotti al carcere di Poggio Reale. E ancora continuiamo a vedere i fatti proprio raccontati dai quotidiani online e vediamo subito quello che riguarda la giornata di oggi perché oggi comunque è una giornata storica per Napoli infatti è tutto pronto per l'arrivo del Papa. Papa Francesco è oggi il pontefice che concluderà il convegno della teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo. Papa Francesco è pronto già ad arrivare nella giornata di oggi alle 9 in elicottero al Parco Virgiliano poi si sposterà in automobile fino alla facoltà teologica di Via Petrarca ad accoglierlo il sindaco dei magistri, il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca oltre all'arcivescovo di Napoli il cardinale Crescenzio Sepe. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati questa mattina sempre da questo quotidiano che è Repubblica e vediamo la notte bianca alla Whirlpool Napoli insieme a operaie e pizzaioli proprio per il bene di questa azienda ma soprattutto di tante persone che in essa vi lavorano. E vediamo proprio le immagini di questo evento eccoli qua li vediamo proprio ritratti a fianco tutti anche noi parte l'ESA insomma tutti in nome di una Napoli produttiva che non vuole lasciarsi vincere dalle politiche economiche che troppo spesso vanno contro gli esseri umani e infatti li vediamo eccoli qua Napoli non molla le persone e anche i burattini raccontati in queste immagini e soprattutto l'attesa l'attesa verso il colloquio con Di Maio spostato non più a oggi ma al 25 giugno prossimo e ancora vediamo quali sono i fatti l'evento di ieri sera è molto importante perché significa che il comune si è mosso individuando nell'avvertenza Whirlpool un'avvertenza che riguarda l'insieme della città un'asse di solidarietà tra due eccellenze di questa città i pizzaioli di Napoli e i lavoratori della Whirlpool che da decenni fanno elettrodomestici di grande qualità un elemento credo molto importante in un'epoca storica in cui è difficile trovare solidarietà e reciproco riconoscimento e quanto ha detto la segretaria generale della FIOM Francesca Re David a margine della serata di solidarietà organizzata dal sindacato con l'associazione pizzaioli i lavoratori metalmeccanici, ha aggiunto Re David si ricorderanno l'elemento di solidarietà che stanno dando appunto nella serata di ieri e ancora vediamo gli altri fatti raccontati da altri quotidiani online vediamo la cronaca di Napoli Today morta sull'asse mediano la vittima è Imma Papa sposata con Domenico da tre anni aveva una bambina di due anni viveva in provincia di Caserta una vicenda bruttissima che si è svolta appunto sull'asse mediano nel pomeriggio di ieri la giovane originaria di Forchia nella valle di Suezzola e lavorava all'aeroporto di Capodichino stava facendo rientro a casa quando è stata investita dal contenuto del rimorchio di un camion all'altezza dell'uscita del centro commerciale le porte di Napoli tra Cerra e da Fragona la 29enne viveva ad Arienzo in provincia di Caserta insieme al marito Domenico con cui era sposata dal 2016 lascia lui e la loro bambina di due anni la sua famiglia è molto nota nella sua terra d'origine la figlia di un vigile urbano Giuseppe stimato in città adesso il corpo della ragazza sarà sottoposto ad autopsia ma intanto ovviamente la tristezza della famiglia è ancora cronaca malore in treno muore un quarantenne metro in tilt l'uomo di origine giorgiana è accusato un malore che gli è risultato fatale treni fermi per 90 minuti e infatti vediamo che è accaduto nella serata di ieri intorno alle 18.30 su un treno delle ferrovie lungo il tratto metropolitano di Napoli quarantenne si è accasciato all'interno del vagone nei pressi della stazione di Montesanto probabilmente gli è stato fatale un malore la cui origine però al momento resta sconosciuta nulla hanno potuto i sanitari del 118 avvertiti dai passeggeri di altri vagoni che hanno trovato un uomo accasciato a terra sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e successivamente anche il magistrato di turno che ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima e ancora ci spostiamo su il mattino e andiamo a vedere le notizie che riguardano appunto questa nostra regione campania e da Napoli vediamo che continua la diatriba marciapiede a De Magistris e Junior la rivolta dei residenti di Piazza Vittoria ridateci le strisce blu questo grido che ieri mattina si è elevato da Piazza Vittoria dove una decina di residenti della zona insieme al presidente della prima municipalità Francesco De Giovanni hanno improvvisato una protesta all'esterno del bristro baroc locale che vede tra i soci minoritari fratello del sindaco Claudio De Magistris l'area è stata recintata ed i lavori per l'allargamento del marciapiede sono pronti a partire l'intervento di riqualificazione riguarda Piazza Vittoria nel tratto compreso tra i due incroci di via Vanella Gaetani e via Arcoleo in questo tratto arcibico 6 si trova appunto l'art bistro baroc al di là dei disturbi della quiete degli appartenenti che affacciano sul bistro una volta posti i tavolini sul marciapiede la cosa per noi residenti fondamentale è ripristinare i posti auto sottolinea Carla della Corte residente in Piazza Vittoria e commerciante di Chiaia non si può pretendere che i residenti verso la spazio e dei tavolini di un locale perdano posti auto insomma questa è la vicenda che sta facendo discutere in queste ore proprio perché con questa autorizzazione si ridurrebbero notevolmente i parcheggi e vediamo anche da questa testata l'arrivo del Papa Napoli infatti aspetta il Pontefice questa mattina alle 9 Bergoglio atterrerà sul prato del Parco Vigiliano niente Papa mobile ad aspettarlo ma un'auto blu che in pochi minuti da via Manzoni lo porterà direttamente in via Petrarca nella casa dei Gesuiti per partecipare a un convegno dedicato in particolare a studenti e docenti delle facoltà teologiche una visita privata la sua destinata a durare solo qualche ora alle 15 Papa Francesco infatti dovrebbe essere già di ritorno a Santa Marta arrivo alle 9 partenza alle 14 nel mezzo una relazione sulla teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo ma vedremo nell'arco della giornata quali saranno ovviamente le novità e ancora continuiamo a vedere le notizie che arrivano dal mattino meccanici elettrauti ed elettricisti ecco la rete di protezione del boss di Lauro sgominata ieri un po' si annoia un po' si paoneggia con quella mitraglietta tra le mani un'arma carica pronta a sparare decine di colpi in pochi secondi mostrata alle auto che passano in quella interminabile sequenza diminuta minuti e quarti d'ora che scandiscono la vita di una vedetta di camorra da guardaspalle di un boss secondigliano magliette a mezze mani che è un'arma nera in mano sembra una pistola automatica che viene comunque fatta scarrellare tanto per vedere lì attorno che effetto fa si chiama Salvatore Alto guardaspalle del presunto boss in erba Salvatore Di Lauro a sua volta ritenuto erede della camorra di secondigliano e ancora vediamo gli altri fatti raccontati però questa volta da Caserta News e cominciamo a vedere la cronaca guato con la pistola contro tre persone arrestato dopo il blitz in casa strage evitata perché l'arma si è inceppata i carabinieri l'hanno trovata nascosta in un buco nel bagno questo è avvenuto a Casal di Principe arrestato per minaccia aggravata e detenzione abusiva d'arma Zabava Vasile 37 anni rueno pregiudicato e domiciliato a San Cipriano d'Aversa giovedì notte a bordo della sua Fiat punto di colore blu sulla circunvallazione a Casal di Principe ha affiancato l'auto di tre suoi connazionali e puntando verso di loro una pistola ha premuto il grilletto senza riuscire a sparare perché la pistola si è inceppata e ancora vediamo gli altri fatti raccontati proprio da Caserta News all'imputato sta facendo l'esame di immaturità attenzione salta al processo alla sbarra otto persone accusate di truffa le assicurazioni stralciata la posizione di un 24enne irreperibile è infatti il processo rinviato per l'esame di maturità di uno degli imputati è successo al Tribunale Santa Maria Capovedere nel corso di un'udienza che vede alla sbarra otto persone accusate a vario titolo di truffa e all'assicurazione il giudice De Santis ha dichiarato il legittimo impedimento di Alberto G 22enne di Capua ed ha rinviato il processo all'inizio di luglio fissando inoltre una seduta straordinaria per la fine dello stesso mese inoltre è stata stracciata la posizione un altro degli imputati David Slastro Succiu rumeno di 24 anni in quanto irreperibile insomma l'esame di maturità legittima appunto l'assenza in Tribunale e ovviamente si rimanda questo accade anche in Italia accade soprattutto in provincia di Caserta ma le vicende non finiscono qua come quanto accade ogni giorno non finisce finisce semplicemente la rassegna stampa di oggi e io vi do appuntamento come sempre a lunedì mattina ricominciamo una nuova settimana parliamo ancora di fatti e intanto io vi ringrazio per essere stati con noi nella giornata di oggi ringrazio Tecnocampus che come sempre ci offre la possibilità di fare informazione e commentate a voi tutti l'augurio di uno splendido fine settimana grazie a tutti www.tecnocampus.it www.tecnocampus.it